Dico Prandelli e richiamo in causa Carlo Sassi perché Prandelli, per chi ne lo sapesse, era colui che teneva in gioco Turone, il famoso gol, non gol, della sfida Juve-Roma valida per uno scudetto 81, con la famosa battuta di Dino Viola, una questione di centimetri. Ma è vero che Prandelli teneva, perché questo venne fuori dalla Moviola, Carlo? Sì, no, la Moviola dimostrò che il gol era irregolare, allora che Turone era oltre la linea di Prandelli, poi però a Roma con un marchigegno particolare dimostrarono che invece non era in fuorigioco, Ah, il che non era vero perché hanno, non dico barato per l'amor di Dino. Ma hanno messo? No, hanno utilizzato una prospettiva. Non era perfetto quel macchinario che ha dato questa risposta, assolutamente. Quindi l'hanno un po' achittato, pro domo propria. Sì, infatti così, ma Turone era in fuorigioco effettivamente. Oh, finalmente una volta per tutti, chiudiamo la questione. Tombale. La questione è chiusa. È chiusa. Turone era in fuorigioco. Ecco.